Avvocato Fabio Revisi, direttore di Salvatore Borsetti, dottor Aiala, un primo chiarimento al tribunale, lei ha dichiarato poco fa sono certo di aver avuto, mi sono trovato la borsa di Paolo Borsellini in mano, com'è arrivata nella sua mano? Eh l'ho detto, io non mi ricordo com'è arrivata, che ce l'ho avuta in mano è sicuro, ma non mi ricordo com'è arrivata. Quindi, lei non sa se l'ha presa lei in macchina, se l'ha presa qualcuno e gliel'ha data? Avvocato, lo ripeto, io confermo che quella borsa è arrivata nella mia mano, confermo che l'ho consegnato all'Officiale dei Carabinieri, visto il momento non mi ricordo com'è arrivata nella mia mano. Sarà una coppa gravissima di cui risponderò davanti al video. A proposito di attaccamento alla verità, lei non se lo ricorda come l'ha avuta quella borsa? E se non me lo ricordo che cosa vuole? Lei si ricorda se la vide sulla macchina? Ci metto un forso davanti. Forse sì, ma onestamente non sono sicuro. Quando lei osservò la macchina dalla quale era sceso Paolo Borsellino, lei si trovava in compagnia di qualcuno? Cioè la guardò insieme a qualcuno? Oppure è un'azione che compì in solitudine? Per quel che è il suo ricordo? No, non so se c'era già arrivato Cavallaro o meno, perché il primo che arriva vicino a me diciamo è Cavallaro, non so. È stato un avvocato, parliamoci chiaro, non è che sono stato lì a ispezionare la macchina, se il sguardo è stato è stato uno sguardo di passaggio, a me che mi fregava la macchina. Non ho capito la domanda. Lei non avrà capito la domanda, però lei guarda la macchina. e poi si trova la forza in mano. Questi sono due dati che dà lei. Non è che se li fretta qualcuno. È che non mi sembrano proprio minimi quanto a importanza. Opinione. Come le sembrano poi ne parleremo. Opinione rispettabilissima, rispettabilissima. Andiamo alle domande sui fatti. Benissimo. Felice Cavallaro, lei dice è uno dei primi che è arrivato? Non lo dico io, lo dice Cavallaro. Sì, ma quello che dice Cavallaro... Certo che lo dico io, è arrivato. Ma a me interessa la sua versione. Lei lo vede lì, è uno dei primi che è arrivato? Sì. Lei ha detto di aver visto ripetutamente le immagini con il capitano Arcangioli, con la forza... No ripetutamente, l'ho vista una volta. L'ha vista? E mi è bastata. In quelle immagini lei si è visto? Ma quando mai? Ma manco per idea, io me ne ero andato chissà quanto prima. Ma vuole scherzare? Lei non segue bene gli atti del processo. Vabbè, io me ne ero andato subito dopo la consiglia dell'aborto. Non facciamo commenti, non servono. Ma che domanda è? Fuori dal mondo. Vabbè, lei... Ma che domanda è? Lei, ascolti le domande e risponde. Non capisco niente, avvocato. Io ho avuto confronti tutta la vita con avvocati su piani di conoscenza. E appunto per questo. Ben diverso da questo. Dottore Ayala, non ho alcun dubbio. Bravo. Ecco. E ci arriveremo su Giacomo Giuseppe Gambino. Ah, bene, questo mi interessa. Però dopo, quando voglio io. Sì, magari se considerate che c'è un tribunale che ascolta... Ecco, che magari le vostre cose, diciamo, pregresse... Ma non sono cose sue. No, siccome vedo che vi intendete su cose per cui il tribunale non sa nulla. Perché io conosco gli atti. Eh, benissimo. E allora cerchi magari di... Li conosciamo anche noi, Ia. Gli unici purtroppo siamo noi. Perché lei è il collega di rimanere nell'ambito processuale. Anche perché il tribunale non è in grado di... No, no, ma facciamolo parlare di Gambino Giocopo Giuseppe. Facciamolo parlare. Io ho fatto una domanda al testimone. Di questa perdonia. Benissimo. Facciamolo parlare. Io ho fatto una domanda al testimone e ho chiesto... Felice Cavallaro è stato uno dei primi ad arrivare? È una domanda che un testimone oculare e auricolare è in grado. Beh, e ha risposto? E ha risposto? Sì. La risposta è sì. Ma quante volte l'ho detto il sì, abbracato? Le arriva la mia voce? Va bene, ha detto sì. Quando Felice Cavallaro arriva, lei lo vede arrivare da lei? Viene da me Cavallaro. Benissimo. Si ricorda cos'è la prima cosa che le dice? Giuseppe, meno male, sei vivo, perché Palermo è piena della voce che l'attentato l'hanno fatto a te. Vai subito e tu... Benissimo. Allora... Questo è il... E chiedo che Cavallaro lo riferisca pure, non lo so. Sì, vabbè, Cavallaro è... Vabbè, allora, stiamo parlando... Non di un nome, stiamo parlando... Stiamo parlando di un suo amico. Stiamo parlando di un suo amico. E un suo amico. Che va trattata... La domanda è questa. Lei, quando è arrivato a Via D'Amelio, da dove era partito? Dal Marbella Residenz. Al Marbella Residenz, lei si trovava da solo o in compagnia di qualcuno? Presidente, mi perdoni. No, va bene. Siccome noi abbiamo prestato il consenso per l'acquisizione degli atti e il Pubblico Ministero ha fatto delle domande a chiarimento e tra queste domande non vi era questa fase, perché si è incentrato su alcune specifiche situazioni, credo che il collega debba rimanere nell'ambito delle domande a chiarimento fatte dal Pubblico Ministero, se no non avrebbe fatto questo tipo di prestazione, se no riapriamo l'esame. Presidente, questa posizione è l'interesse di quale imputato è fatta? Nell'interesse dei miei assistenti. No, le domande nell'interesse di quale parte sono fatte? Nella parte civile, Salvatore. Il capito di votazione di questo processo con questo... Le domande a chiarimento su... Preto. Le domande del piede. L'ho fatta. Lei in compagnia... Qual era? La puoi ripetere? Sì, lei in compagnia... Allora, lei si trovava al Residenz Marbella, da solo o in compagnia di qualcuno? C'era mia moglie che era scesa proprio prima, del momento in cui ho visto quel fumo. Quindi era scesa prima dell'attentato? Prima, sì, credo che il botto, perché l'abbiamo sentito, il botto era in coincidenza proprio... Infatti mi sono affacciato per vedere se mia moglie aveva preso la macchina. Sì, però il botto è enorme, ma... Sì, c'è un palazzo a dieci piani davanti, non si capiva bene cos'era. Dopo un po' sono tornato al balcone e ho visto questa enorme nuvola nera che superava Allora, lì ho capito che dovesse successe qualcosa di grave. E sono sceso e con l'ascolto stiamo andando. Quando avviene il botto, e quindi prima dell'elevarsi della colonna di fumo, lei ha un momento in cui si vede anche a distanza con sua moglie? Mio moglie era giù in macchina, stava salendo in macchina, forse ci siamo scambiando uno sguardo, adesso mi dice, ma non vedo la rilevanza. Vabbè, questo è il testimone, di solito non giudica la rilevanza, questo lo dovrebbe sapere meglio. Io ho la deformazione professionale, chiedo scusa, Presidente. Rientri nel suo ruolo di testimone. La deformazione è la cui non si guarisce, la chiedo scusa. E quindi, sì, cioè lei e sua moglie, vi vedete? Forse ci hanno scambiato uno sguardo, la nuova scuola. Lei ha elementi di fatto per poter dire che sua moglie ebbe certezza che lei era al Residence Marbella quando c'era stata l'esplosione in Via D'Amelio? Presidente, ripeto, c'è opposizione perché stiamo parlando nuovamente di circostanze che non sono state, su questo punto, affrontate dal Pubblico Ministero. Sono state affrontate, mi perdoni, durante il presso quadro, è suo testimone e quando lei vorrà fare l'esame farà l'esame. Intanto faccio il compreso. Cioè lo richiamerò io? Se questa è la volontà... Se sono circostanze relative al verbale che è stato acquisito, a chiarimento possono essere fatte domande. Non opponiamoci a ogni domanda su questo punto perché altrimenti... E che ci possiamo fare? Prego, Polizia. Non darebbe il consenso di acquisire altro, Presidente. Io che... È vero che è stato acquisito un verbale, è un verbale di un processo che è un altro capo di imputazione o comunque in parte diverse, ricordato soggetti diversi, in questo processo non ha nessuna attinenza. Questa è un'altra questione, ma il verbale è stato acquisito, quindi sulle circostanze del verbale dobbiamo consentire alle parti di fare le domande. Presidente, le chiedo scusa però, non voglio fare sottolineature. Se ha attinenza o meno rispetto ai capi di imputazione, è un processo, giusto per essere chiari, non lo dice il Pubblico Ministero, lo dice una sentenza, benché allo Stato in primo grado di giudizio. Quindi, per favore, asteniamoci da questi commenti perché sennò dovremmo spiegare tante cose. Ritorniamo sulle circostanze del verbale e sulle relative domande, cosiddette chiarimento. Lei quindi è in grado di confermare al Tribunale che al momento dell'esplosione, dell'ascolto del botto, sua moglie ebbe consapevolezza che lei non era rimasto vittima di questo attentato, giusto? Questa è matematica. Non l'avevo capito la domanda. Questo era il senso. Benissimo. Ah, questo è matematica. Ma ha visto che ci arriviamo. Il problema è dei figli, no, a me non mi ha mai parlato di una moglie. No, io non le ho chiesto di più. Ah, ce l'ho capito. Domanda. Lei sa se Felice Cavallaro, prima di arrivare in Via D'Amelio, aveva sentito al telefono sua moglie dopo l'esplosione? Io questo, ovviamente, in Via D'Amelio di tutto mi sono preoccupato, tranne che di farmi raccontare la Cavallaro. Però, se non ricordo mai, è stata sentita mia moglie nel processo. E quindi lei ne sa più di me. Sentiamo mia moglie e vediamo se... Ma io non ho chiesto a lei. Ma che ne so, io secondo lei in quel momento la Cavallaro mi faccio dire che telefono, ma è mughiera. Ma un po' capito. Ma lei lo vedete. Scusi, ma lei smusi avantiere al dottore Loforte, ma ha telefonato con l'impedo. Ascolta, lei sa benissimo che il testimone non può rivolgersi così alle parti. Le viene fatta una domanda, non è una domanda offensiva. Non è offensiva, è una valutazione molto personale. Insomma, diciamo che... Non è personale, è la valutazione del tribunale. Quindi, lei è qui in veste di testimone. Capisco che è disagevole, non è una cosa piacevole parlare di questi fatti, anche a distanza di tanti anni. Però lei deve accettare... Non la vedete. Deve accettare di svolgere il suo ruolo di testimone, che fra l'altro è nobile. Non vedo nessuna... Nobileissimo. C'è un problema, siccome ognuno di noi si porta dietro, io anche in considerazione degli anni che ho una lunga esperienza, tutta questa obiettiva, diciamo, come dire, sospettosità sulla genuinità della mia... è un'offesa alla memoria di molte persone. Ma se lei è testimone, per definizione... Non ho spesa la memoria, perché allora... Non è sospetto. Non è sospetto. Inno Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che hanno fatto... hanno detto su di me... No, erano degli stroveduti che non capivano che avevano la serpenzena, ma si rende conto. Allora, o sospendiamo... E i colleghi su Pesti... O sospendiamo, o sospendiamo e un attimo rientriamo... Io lo scusa, Presidente, ma non sono... Perché non possiamo andare avanti così, lei si rende conto. Va bene, per la mia parte cercherò di non creare più problemi. Facciamo una sospensione di 10 minuti così ognuno rientra nel suo ruolo e non saranno più ovviamente consentiti modalità diverse. Mi prendiamo? Sì, Presidente. Grazie. L'Avvocato Reddici. Posso? Prego. E allora, Dottore Ayala, lei ha saputo nell'immediatezza o anche in epoca successiva... Se prima che Felice Cavallaro arrivasse in via D'Amelio, Felice Cavallaro, dopo l'esplosione, aveva sentito telefonicamente sua moglie... Credo che sì. Scusa, perché la pausa può essere stata utile, Presidente, la sua saggezza... Io spero che... Siccome sono stati acquisiti i miei verbali, ho già risposto a questa domanda, perché riproporla? Il Pubblico Ministero correttamente mi ha chiesto se avevo delle acquisizioni da fare o che ho fatte. Io secondo lei non sono corretto invece, però magari ce l'ho una mia correttezza e lei non la riesce a... No, 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 non mi riferivo, perché l'avvocato non è tempo di rimanere il mio pensiero, assolutamente non mi riferivo alla sua non correttezza, ci mancherebbe altro. Mi riferivo alla, come dire, alla praticità della cosa. Siccome i verbali sono stati acquisiti... Sì, ma c'è una certa praticità, perché lei dice oggi che Felice Cavallaro arrivò lì, ah, meno male, sei vivo. Sì. Ma se già aveva saputo da sua moglie che lei era vivo, non sarebbe stata questa la cosa più normale da dire quando l'aveva vista? Qual è la domanda? Non l'ho capito, qual è la domanda? No, Presidente, me l'ha fatta il testimone la domanda. No, e lei non deve rispondere le domande. Ah, benissimo, allora spieghi lei al testimone di non fare domande. Ho tentato già di dirlo. Sì, aveva già problemi. Benissimo. Conferma quindi che Felice Cavallaro è la prima cosa che... Avvocato, io non so, la chiarezza nel mio linguaggio è messa... Sì, magari evitiamo di ripeterlo. No, il problema è che Cavallaro mi dice che non lui, tutta Palermo sa, non lui, tutta Palermo sa. Quindi vai alle tue figlie perché probabilmente anche allora arriverà questa voce. Cavallaro sapeva che ero vivo. Ma lì poi si va... Non si è elementare. Bene, andiamo alla prossima domanda. Non è che Cavallaro ha chiamato tutta Palermo per dire guardate che l'attentato non è stato battaglia. Cavallaro mi dice guarda che tutta Palermo è piena di questa voce. Non vorrei che arrivasse i tuoi figli e parlare i tuoi figli. Va bene. Rispetto a quando lei incontra la persona che aveva pensato potesse essere il dottor Loforte, ma a seguito della telefonata ha preso non essere il dottor Loforte, rispetto a quel momento, Felice Cavallaro arriva in un momento successivo? Sì, 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 questo sono sicurissimo. Io sono arrivato, quello che ho visto non lo descrivo perché lo potete immaginare, qualcuno parlava di Beirut, io non sono mai stato a Beirut, ma insomma... E cerco di capire che cosa è successo. Questo l'ho già detto, ma lo ripeto. Quando vedo che la macchina è blindata, perché non sapevo che lì abitava la madre di Paolo Corsettino, entro in allarme, entro, e inciampo in questo tronco, bruciato di uomo. Oggi ha raccontato, Michino, dopo di che esco, quando esco arriva Cavallaro. Che incontro Cavallaro, insomma. Sì, sì, va bene. E ora vi chiedo una precisazione. Cavallaro arriva prima o dopo che lei si ritrova alla borsa di Paolo Borsettino? No, prima sicuramente. La borsa arriva quando c'è Cavallaro già accanto a me, sicuro. Ah. E Cavallaro assiste a tutta la scena. Cavallaro, che lei ricordi, ebbe in mano, si trovò in mano la borsa? No, no, no. Io insisto perché, comprensibilmente, si può dilatare molto il tempo. della realtà dei fatti sono stati i secondi, che l'ho detto poco fa. Borsa, consegna e me ne va. Tutto? È chiaro nel suo ricordo di oggi che lei consegna a ufficiali in divisa. Questo è pacifico. E se non ho capito male, carabinieri. Giusto? Sì, sì, sì. Perfetto. E quindi non quell'arcangioli che lei, la cui immagine lei ha visto, perché non ha la divisa. Giusto? È giusto? Domanda contiene la risposta. Benissimo. Quindi conferma. Le chiedo, lei ha ricordo di essersi trovato vicino ad arcangioli, cioè all'uomo, con quella fisionomia e quella... Assolutamente. Magari sarà stato. Io non me lo ricordo. Dottor Mazzamuto, all'epoca era magistrato al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Sì, me lo ricordo. È un collega alto, credo. Esatto. E ora mi va cominciare a dicormirlo. Un po' di noccolato. 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 Pico, lo conoscevo. Non era uno dei colleghi in cui avevo grandi rapporti perché lui lavorava in un ufficio diverso dal mio. Poi il lavoro, diciamo, nostro era un lavoro molto particolare per cui non è che frequenta... Io, se fosse stato il componente di un collegio del Tribunale o un magistrato di Corte d'Assiso l'avrei ricordato di maniera più chiara perché il Pubblico Ministero lo faceva in Tribunale di Corte d'Assiso. Ma a saputo non me lo ricordo come giudice di Tribunale di Corte d'Assiso. Ma lo conoscevo, sì. Più giovane di me, tra l'altro. Cosa che è più giovane. Bene. Le dice, arrivo e vedo la blindata. Anzi, dopo aver visto il tronco di cadavere. No, la blindata la vedo prima. Poi però ci si imbatte dopo. No? No, no, no. Allora ho capito male io la sua direzione. Ma ci mancherebbe. Può capitare a tutti. Può capitare. Ma si può anche integrare. Esatto. Io arrivo e vedo quello che vedo e noto questa macchina blindata, bruciacchiata, che mi fa collegare al fatto che non era una bombola che era scoperto in un appartamento, non sono tanto per capirci. Vado, perché il punto più forte dell'esplosione si capiva che era lì, il cancello d'ingresso, dopodiché inciampo in questa posa che insomma che poi riconosco per il cadavere Paolo Borsellino. E dopo che riesco, nello stato d'animo che ho cercato di spiegare forse con scarso successo, ma è un limite mio, mi ritrovo materialmente davanti alla macchina perché la macchina era lì. Va bene. Le chiedo, ma lei ha visto una sola macchina blindata in via d'Amelio? Credo che ce ne fosse una più avanti. Più avanti? Rispetto a quella di Paolo. Tenendo alle spalle via autonomia siciliana? Sì, credo. Ce ne era una, adesso non so esattamente dove, ma insomma, quella che più ha affidato la mia attenzione era quella proprio davanti al cancello della... che poi forse ce ne era un'altra. Lei quella macchina, la riconobbe in qualche modo particolare? Oppure è l'unica macchina rispetto alla quale lei si... No, questo credo di averlo già detto, perché queste croma... Io sono stato... ho fatto vita abilitata per vent'anni, quindi è un problema che mi riguarda. Avevamo mandato in procura, quando ancora c'ero io, io ho lasciato la procura di Palermo, come dicevo prima, nell'estate del 91, per andare a fare il consulente della Commissione Antignafica a Roma. Qualche tempo prima, c'erano state date delle croma blindate che avevano una caratteristica particolare. In genere, quelle macchine blindate allora avevano l'antenna radio sul tetto. Queste, non ricordo se erano lui o tre, non me lo ricordo, che furono assegnate alla procura, avevano l'antenna sullo sportello del portabagaglio. Ed erano le uniche, quindi era a procura di Palermo. Ecco perché in quel momento ancora di più il mio stato d'animo montò. Ho capito. Senta, al 19 luglio 1992, da quanto... quando era stata l'ultima volta che aveva visto o sentito Paolo Borsellino? Ho già raccontato, ma lo ripeto, non c'è problema. Ripeto, quando Paolo arrivò alla procura, tornò a Palermo, Falcone... Lei era in commissione antimafrica. Eravamo fuori. Quindi non lo rivevo. Dopo il 23 maggio 1992, penso nel mese di giugno, io mantenevo dei rapporti telefonici con Nino Caponnetto, che li mantenevo ovviamente anche con Paolo Borsellino. E un giorno ho ricevuto una telefonata, o mentre parlavo con Caponnetto, in cui mi ha detto, ma tu per cui... Perché io stavo... Un momento. Nel frattempo, io ero stato candidato alla Camera dei Deputati. Questo è un particolare che posso essere riferito. E... si votava, se non ricordo male, il 5 e 6 aprile del 92. E il 28 marzo del 92, caso unico, che io sappia, nella storia della politica italiana, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, parteciparono a un'iniziativa elettorale a favore del candidato a Iala. Lo cito perché la famosa fotografia che li detrà assieme sorridenti, l'un accanto all'altro, che diventava, secondo me, è giustamente una fotografia simbolo e una fotografia tagliata. Perché poi, a seguire, c'è anche il sottoscritto. E credo che questo sia significativo anche per, voglio dire, sottolineare il tipo del rapporto che c'era con Falcone è notorissimo. Ma anche con Paolo Borsellino, anche se da anni non lavoravano insieme. Perché Borsellino, come tutti sanno, nel lui faceva mistero, diciamo che aveva idee politiche molto diverse dalle mie. Io ero capovisto del Partito Repubblicano. Lui era monarchico, lo rivendicava e votava a fiamma tricolore. Ciò, malgrado, ritenne di partecipare a quella iniziativa elettorale a mio favore. Il che non è un attestato gli amicizi. È molto di più. Perché fu avvertito che rischiava il procedimento disciplinare. Io credo che non sia mai successo in Italia che un procuratore della Repubblica ha giunto, cioè il numero due, di una procura importante come quella di Palermo, partecipa a un'iniziativa elettorale a favore, sia pur magistrato, a favore di un candidato alla Camera dei Deputati. Questi erano i rapporti tra me e i Borsellini. Andiamo alla domanda. Erano questi. Quella fu l'ultima volta che lo incontrò? No. Io quindi me ne aveva... No, questo era per spiegare il fatto che... Perché Caponnetto mi disse ma tu per il weekend torni a Palermo? Perché io ero in Parlamento. E io disse sì. Questo dopo la strage di Capaci? No, no, dopo Capaci. Certo, certo. Il mese di giugno, l'ho detto prima. Il mese di giugno, questo giorno. E io gli disse certo, Ciselli, fammi un favore, se hai tempo vai a trovare Paolo perché lo sento, lo sento, non mi piace. E io, tornando per un weekend, una mattina andai a Palermo, l'unica. Sfilo chiunque a dirmi che mi ha visto un'altra volta. Da quando avevo lasciato quell'ufficio, solo per amore di Paolo Borsellini, di me a Caponnetto ci ho rimesso piede. Perché l'ultimo periodo della gestione, a proposito, l'ultimo periodo della gestione è già manco. Per noi era stata una cosa... E nel giugno del 92, dopo la morte di Giovanni Falcone, fui invitato, questo mi pare un particolare, interessante, per una consapevolezza migliore di chi è il sottoscritto. Da Fernanda Contri, che era un ex membro del Consiglio Supremo della Magistratura, nostra amica, aveva sostenuto Falcone nelle famose vicende del CSM, a Genova. E in quell'occasione, quando si parlava, siccome c'era stata la polemica che Falcone si era venduto ai socialisti perché aveva accettato l'incarico al Ministero, io dissi, guardate che Giovanni Falcone in ufficio non mi era messo in condizione di lavorare. Una volta mi disse una frase che non è molto elegante, ma la ripeto, che io in ufficio da solo posso andare solo a fare la pipì. E, cosa sorprendente, mi fece vedere in più occasioni che annotava nel suo computer tutti gli episodi facendo il capo, soprattutto al capo dell'ufficio, da cui si, come dire, si desumeva chiaramente il suo isolamento. In questa vicenda di Genova, quando io dico ma quale venduta ai socialisti, Giovanni se ne è dovuto andare perché là non poteva lavorare più, come si scoprirà dal suo computer perché lui annotava? Questa mia dichiarazione fu confermata da Paolo Borsellino e da Leonardo Guannotta che dichiaravano, se non ricordo male, al messaggero. è vero, hai detto la verità perché una volta c'eravamo pure noi e Falcone ci ha letto questo. A proposito dell'agenda elettronica di Giovanni Falcone, giusto? Beh, quello che si è scoperto dopo è che l'agenda era stata cancellata. Nessuno saprebbe che era stata cancellata se io non avessi detto quello che c'era scritto. Non so se sono stato chiaro perché di quell'agenda era conoscenza. Allora, quindi lei incontra Paolo Borsellino al Palazzo di Giustizia una volta a giugno. Una volta sola, naturalmente è venuto che vi descrivo l'incontro perché era molto emotivo. Eravate solo voi due o c'era qualcuno? Sono due, sono due. Sono due e molto emotivo con la famosa frase che ho riferito più volte perché forse è uno dei pochi atti di così che un po' un po' non mi perdono. Lui mi disse io ci sei guardato come ha detto Nino che lavori troppo che non fai altro per lavorare. Lui mi disse da darti una calmata che abbiamo preso la botta che abbiamo preso. Lui mi disse Giuseppe io non posso lavorare meno perché mi resta poco tempo. E io feci finta di non capire. ci siamo rimessi a piangere non ho nessuna difficoltà a dirlo dopodiché ho girato i tatti e me ne sono andati. L'unica volta che ho messo piede al palazzo giustizia di Palermo dopo l'estate del 91 adesso è il mese esatto in cui venirei andare a Roma non lo so. In una data che non possiamo esattamente individuare ma più o meno nel mese di giugno giusto? Collochiamo ma dopo questo incontro lei sentì telefonicamente Paolo Borsodino? No, mai mai sentito. bene ho capito bene che lei fino al 91 era stato in servizio in procura a Palermo la voglio studiare questa volta sarò preciso sono arrivato alla procura di Palermo nel settembre 91 e ci sono rimasto credo fino al settembre del perdon dell'81 e meno male che dovevo essere preciso a settembre 81 e ci sono rimasto dieci anni perché sono stato collocato fuori ruolo per andare a fare il consueto come sono andati se non ricordo male era proprio settembre 91 comunque è stato nel primo semestre lei faceva il pubblico ministero al sostituto procuratore giusto? sì sì nel primo semestre del 1991 si ricorda chi fosse il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Palermo? ma manco per idea non aveva rapporti lei? non lo ricordo non ho idea e quindi neanche il comandante del reparto operativo no non ricordo no avvocato io vorrei essere molto chiaro anche se mi dispiace raccontare queste cose ma le ho già raccontate io a mia volta l'ho stato emarginato e mi il procuratore già manco mi assegnava solo furti enel sono stato chiaro furti enel il vincitore del maxiprocesso il trionfatore del maxiprocesso si occupava di furti enel punto e basta allora presidente io sul punto poi cioè sulle persone presenti in via d'amelio e sull'ipotetico ufficiale o ufficiali in divisa carabinieri ufficiali in divisa a cui il dottor Ayala consegnò materialmente la borsa che teneva in mano avrei la necessità di fare vedere delle immagini che sono già state acquisite come documento fanno parte del fascicolo del dibattimento e non so se c'è la strumentazione utile a disposizione del tribunale avvocato escludo che dopo 27 anni non lo faccia in prevenzione dottore no io ammetto un mio limite uno dei tanti limiti che mi affliggano sapesse quanti sono che dopo 27 anni io posso andare a fotografia a riconoscere quelli che ho visto per pochi secondi in quel momento io lo escludo e sono sicuro che anche lei non ci riuscirebbe quindi non perdiamo tempo questa si chiama renitenza sì non reticenza no si chiama quello che vuole lei no se vuole se lei insiste su questa si chiama noi abbiamo la strumentazione può darsi anche che appunto erano persone che il dottore Iala ha visto al palazzo di giustizia quindi credo che sia pertinente questa sì sì dico se insiste su questa domanda noi ci attrezziamo e non ci si crede bene sì e chi ti do alcune immagini al computer ce le ho sì presidente io ho già dobbiamo solo accendere di immagine sì che posso forse riuscire a caricare su una pendrive e consegnare ai tecnici non so se può essere utile sto cercando di sì 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 di agevolare e questo noi dobbiamo soltanto accendere ma possiamo utilizzare presente anche il computer del collega se per lui non è un problema tanto per me non è un problema partiamo dal presupposto che il problema è che però il tribunale non vede le parti non vedono io lo so a memoria e non vedo e solo il testimone può visionare perché allora mettiamo in funzione i nostri potenti mezzi va bene allora io intanto metto in una memorizzo in una pendrive le immagini allora dobbiamo sospendere per allora noi siamo pronti abbiamo il tecnico presente scusi avvocato da qui solo per dare atto alla mia presenza grazie allora che immagini dobbiamo sì presidente io ho consegnato un pendrive con una cartella delle immagini che a me interessano sono tutti dei singoli fermi immagini del video che è già stato acquisito al fascicolo del dibattimento vorrei che venisse mostrata per prima al testimone la immagine con il numero uno esatto immagine con il numero uno e la domanda è questa se il testimone è in grado di riferire al tribunale se la borsa di Paolo Borsellino nel momento in cui lui l'ha avuta in mano era in queste condizioni cioè particolarmente bruciacchiata oppure era in condizioni più incontaminate guardi presidente questa parte molto bruciacchiata è sull'anteriore io la borsa l'ho ricevuta cioè questa parte esterna non la vedevo l'ho ricevuta a parte l'ho guardata un attimo soltanto l'ho visto solo questa cioè la vedeva dall'alto dall'alto ovviamente se è questa sarà stata questa sì no è quella il punto è che voglio capire in che condizioni era quando lei è stato in contatto con me ah ho capito ho capito ripeto avvocato questa parte diciamo anteriore che è più malcombinata dall'alto io non l'ho visto perché in questo non lo ricordo mi è arrivato in mano e ho visto questa parte alta le vede che ci sono che mi pare molto meno danneggiata sì però un po' danneggiata sembra sì ma comunque l'ho tornata in mano ho fatto tre passi l'ho dato a questo ufficiale dei carabinieri tutto è durato 10 secondi ha avvertito calore nell'impugnare la borsa che io ricordo si è bruciacchiato la mano no no bruciacchiato sicuramente no che magari forse un po' calda forse sì bruciacchiato no mi ha ricordo di aver avvertito sì forse un po' forse un po' di calore sì ma non ripeto non bruciacchiato cioè non una cosa diciamo che è una reazione forte più di questo non è in grado di riferire sul punto nel senso può escludere che la borsa fosse invece ancora intatta non colpita di fuoco no intatta no intatta no anche da sopra si vede era mal combinata sì sì beh vuoi dire possiamo andare allora al numero due il fotogramma numero due sì questo mazzamuto lei riconosce lì il dottor Nicola mazzamuto quella persona con la maglietta verde questo qui non me lo ricordo là ma è lui si può mostrare a questo punto la foto numero tre io le mostro un'immagine che lei mi pare di capire ha visto sugli organi di informazione questo è il cangiore che se ne va così questa è l'immagine del capitano io non ci sono io queste immagini ecco io questo le volevo chiedere rispetto a quelli che possono essere i suoi ricordi sui dati di fatto di sua conoscenza in questo momento lei è già andato via ma c'è ma c'è io lascio la borsa agli affugati la consegno 20 secondi di sollecitazione di cavallare e me ne va quindi a questo punto è chiaro che non ci sono più possiamo passare all'altra allora in queste immagini questo è Iovine come? questo è Iovine non ho sentito scusa il microfono questo è Iovine Iovine Sì Iovine il questore cos'era? Sì credo che fosse il questore forse era stato questore era prefetto Iovine ma non ricordo ma a me l'immagine che le volevo sottoporre più in particolare c'è un solo uomo in divisa ed è una divisa da ufficiale dei carabinieri ecco quest'uomo lei anticipo la sua domanda non me lo ricordo non lo conosce io me lo riconosco facile allora colonnello Emilio Borghini io dico io lei questa persona grazie per il suggerimento ma non me la ricordo ma lo conosci? scusi no 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 dottore dico c'è un piccolo particolare sono passati 27 anni quindi perché lei io ancora a 74 anni ho una certa lucidità ce l'ho ma dopo 27 anni io ve ne ho riconosciuto subito quello non me lo ricordo non me lo ricordo e lei mentre era in servizio come pubblico ministero a Palermo ha avuto rapporti quindi ha conosciuto di persona l'allora non so se fosse maggiore o tenente colonnello o colonnello Mario Mori comandante del gruppo carabinieri Mario Mori sicuramente benissimo questo signore e anche di Donno di Donno che era solo capitano che era esatto benissimo e che era addetto al nucleo operativo questo signore colonnello Emilio Borghini è il successore di Mario Mori quindi poiché Mario Mori lascia Palermo nel 1990 appunto e lei è ancora PM a Palermo gli ultimi mesi mi occupavo di Fortiene Mori lo vedevo quando mi occupavo gli altri indagini questo qua chi lo doveva vedere è il sostituto Fortiene e lei viene il comandante del Rosso va bene e si può passare alla successiva qui nell'immagine ci sono pure dei suggerimenti nominativi la prima cosa che le chiedo c'è una persona che viene indicata come Ayala io le chiedo se lei si riconosce in quella persona grosso modo da un'inequivocabile deficienza dei capelli che credo se non sono io mi somigliamo ma penso di essere io come vede si trova accanto in quel momento alla persona che prima lei ha riconosciuto come il dottor Nicola Mazzamuto si è dietro di me lo vedo e poco più in là c'è quella persona che lei prima non ha riconosciuto e che è il colonnello Borghini non prima continuo non era non era era un dato di fatto oggettivo oggettivissimo benissimo ora io le chiedo rispetto a questo momento raffigurato in questa immagine lei è in grado di riferire al tribunale se la borsa lei l'aveva già consegnata agli ufficiali dei carabinieri oppure ancora non l'aveva mai avuta in mano guardi l'unico dato che mi fa pensare che la borsa l'avevo già consegnata ma non vedo Cavallaro no Cavallaro le anticipo che in nessuna immagine siamo riusciti a trovarli ma no glielo dico io dalle immagini non lo metto in dubbio per carità di Dio ci mancherebbe altro ma di come pare una cosa veramente strana è strano no non lo so dire rispetto al dichiarato è strano rispetto al video leggo seconda asportazione borsa a bocchino relativo seconda no no quella è una domanda del tutto concetturale non c'è in grado lasci perdere insomma nel momento in cui io questa lo ripeto ancora in questi pochi secondi io mazzamuto non lo dico quell'altro la mia domanda era rispetto ai dati di fatto a sua conoscenza e alla sua memoria questa immagine è in un momento precedente o successivo alla consegna da parte sua della borsa questa è la domanda e come faccio a dirlo secondo me dovrebbe essere precedente perché poi me ne sono andato via subito e quindi come faccio ad essere ancora lì beh ne sumo che deve essere perché io appena consegno la borsa lo ripeto per il Nese Morsa e chiedo scusa per la ripetitività io ricevo la borsa continuo la borsa e me ne vado quindi evidentemente non potevo essere ancora lì e allora le devo fare una richiesta di precisazione nel ricordo che lei ha nel momento in cui vede gli ufficiali avvicinarsi a lei e lei consegna loro la borsa c'era molta folla già a Via D'Amelio c'era un po' di gente c'era un po' di gente chiamarla folla non lo so c'era altra gente c'era c'era movimento gente che si muoveva che andava tornava sì questo sì un contorno diciamo di persone l'ultima precisazione su queste immagini se ha bisogno chiedo al tecnico di fargliela rivedere ma lei ne ha memoria perché prima l'aveva riferita l'immagine di arcangioli che si allontana con la borsa in mano per quel che è la ricostruzione che lei può fare sui ricordi sugli elementi di fatta a sua conoscenza con l'immagine successiva o precedente al momento in cui lei consegna la borsa agli ufficiali ma penso successiva no per quello che lei può riferire io ho già riferito io la consegno a un ufficiale uno dei due ufficiali di carabinieri che sicuramente non è sì ma siccome lei non ha detto come è che l'è arrivata in mano in ipotesi del tutto astratta potrebbe essere arrivata in mano a lei dopo che ce l'aveva l'arcangioli ma nulla in astratta questo mi pare mi pare fuori lo ritengo pure io però meno male che lo ritiene pure lei però è un'ipotesi che non si può escludere abbandoniamolo come? abbandoniamolo lo esclude quindi lo esclude quindi lei l'ha avuto in mano prima di quelle immagini di arcangioli giusto? lo possiamo avvocato mi scusi non vuole essere ripetitivo lo ripeto per esempio io ricevo questa borsa e non mi ricordo nada la tengo pochi secondi per il tempo di consegnarla a due ufficiali dei carabinieri che non sono arcangioli dopodiché ho un brevissimo colloquio concitato con Cavallà che è incredibile come non compaia e me ne vanno è chiaro che questo è successivo non potevo essere il più supposto le chiedo nel caso è una ripetizione le chiedo scusa però mi serve lei è certo che fossero due ufficiali in divisa che lei l'ha consegnata a due non a uno no consegnata a uno a uno e a uno erano insieme erano due un accanto all'altro e io l'ho consegnata a uno bisognerà vedere di trovare nelle immagini due ufficiali dei carabinieri in divisa impresa credo ardua è un problema su di tutti della verità non so se perché il pubblico ministero le ha fatto domande per me per le immagini va bene così quindi se si vuole accomodare per me il pubblico ministero le ha fatto i nomi di alcuni ufficiali rispetto ai quali lei ha detto di non avere alcun ricordo manco dei nomi c'è un nome di un ufficiale che io non so se il pubblico ministero l'ha fatto e io non l'ho sentito quindi nel caso chiedo scusa per la ripetizione l'allora capitano maggiore Marco Minicucci non mi dice niente lei mi ha fatto il nome di Mario Mori e io l'ho detto subito me lo ricordo benissimo De Donne me lo ricordo benissimo questi non mi ricordo non si va bene ora l'ultima questione a proposito di Giacomo Giuseppe Gambino ah bene lei in epoca successiva alla strage di Via D'Amelio e quindi quando la procura di Caltanissetta ebbe varie indagini e sicuramente una sulla strage di Via D'Amelio lei ebbe mai contezza fu mai avvisato di un procedimento a suo carico sulla scorta di dichiarazioni di Giovanni Brusca a proposito di presunto presunto e magari inesistente favore fatto da lei a Giacomo Giuseppe Gambino e diciamo ricambiato da Giacomo Giuseppe Gambino se c'è stato un procedimento forse mi avrebbero dovuto avvertire in qualche maniera lei non ne ha mai avuta notizia di dichiarazioni di Giovanni Brusca che collabora nel 1996 diciamo comincia dopo la sua cattura del 20 maggio dichiarazioni che riguardano la sua persona lei non ha mai avuto alcuna contestazione da parte della procura della Repubblica non le è mai stato fatto alcun avviso non le è stata data mai alcuna notizia no in quegli anni a me interessa lo capisco lo capisco no no assolutamente no Brusca sul Gambino sul Gambino deve continuare lei avvocato sì certo lei mi deve spiegare la domanda che ha fatto lei stavo andando diamo il tempo diamo il tempo di continuare posto che io a lei spiegazione non ho alcun obbligo di darne ma stiamo arrivando lei ha mai avuto debiti di gioco delle carte mai 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 lei era come dire abitué del gioco delle carte abitué no giochicchiamo ogni tanto con gli amici ha mai avuto grosse perdite c'è un problema di 499 ultimo comma 98 pertinenza domanda io pensavo 198 secondo comma è su Giacomo Giuseppe Gambino perché Brusca dice che lei ha fatto un favore perché aveva avuto debiti di gioco favore a chi? queste sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Brusca e Mutolo sì ma il favore in che cosa si è concretizzato? nella sua nella gestione da parte sua di quel processo quale? il maxiprocesso lo dice pure Brusca e non lo dice solo Mutolo ma voglio dire la domanda che lei ha fatto secondo me in maniera assai inopportuna sulla dichiarazione di Gambino Giacomo Giuseppe che dichiara Gambino Giacomo Giuseppe nei miei confronti dichiara il falso perché mi attribuisce e no pardon ci siamo capiti Gambino Giacomo Giuseppe è il destinatario Mutolo dice il falso perché dice che io avevo chiesto il favore forse sarebbe stato che avevo chiesto la condanna a 10 anni pur avendo fatto 50 omicidi ho già spiegato non vorrei ripetere che la richiesta è stata di 18 anni anche perché omicidi a carico non ne aveva ma la cosa che mi pare molto significativa è che alla fine la pena definitiva è inferiore di due anni a quella che ho richiesto io quindi me lo spiega il favore lei questo lo deve chiedere a Giovanni Brusca e a Giacomo Giuseppe lei l'ha chiesto a Gambino abbiamo appreso abbiamo appreso la risposta l'ha ripetuta lei che ha dimestichezza con il computer perché non va a controllare il computer prima di portare la domanda se vuole io visto che ho dimestichezza col computer prendo la dichiarazione Giovanni Brusca gliela leggo e lei mi risponde e me la leggo che vuole che le leggo ma fa parte del assolutamente no allora siamo fuori tema assolutamente no scusi presidente io a questo tipo di domande di controesame anche se dovesse essere considerato come esame personalmente mi oppongo perché non dobbiamo dimenticare perdere il filo che l'imputazione in questo processo a carico dei poliziotti è solo esclusivamente di calunne aggravate in concorso con Scarantino per via da me cosa possa interessarci la posizione favore o non favore personalmente non ci credo conoscendo peraltro il dottor Aialo nei confronti di Gambino Giacomo Giuseppe non riesco completamente a comprenderla quindi io sotto questo aspetto ritengo che questo tipo di domanda in concorso dell'oggetto del processo questo tipo di indagine in relazione all'imputazione presidente noi l'abbiamo già detto un po' di tempo fa e mi sembra di capire che non sia neanche un argomento presente nei verbali che sono stati acquisiti quindi su questo la domanda non è ammessa neanche sull'attendibilità del testimone perché io in modo leale spiego che secondo me il dottor Aialo ha avuto difficoltà nel poter riferire la verità sulla borsa di Paolo Borsettino così rimane questa è la sua opinione la domanda non è ammessa quindi procediamo nessun'altra domanda presidente grazie